Quattro mesi di carcer con pena sospesa e la condanna che il giudice ha inflitto ad un 46enne di Riese che tormentava la madre per avere dei soldi. Non solo, l'uomo dovrà risarcire la madre con 5.000 euro, ma lei però aveva chiesto la restituzione di prestiti per 150.000 euro. Accanto a questo pagherà anche le spese sostenute nel processo. Per anni, aveva accusato la madre 78enne, l'uomo la sottoponeva a violenze psicologiche e minacce con lo scopo di farsi finanziare un'azienda di informatica mai partita. I 150.000 euro versati dalla donna sarebbero invece finiti in viaggi in Brasile e in Thailandia.